Ultimamente tra l'estate e le vacanze ho un po' perso di vista Fortnite e soprattutto la questione teorie e lore della nuova season 5, che poi tanto nuova ormai non è. Siamo già vicini alla settimana 7 ed è arrivato il momento di parlare di quello che potrebbe accadere. Quindi salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite. Siamo entrati ufficialmente nella settimana 7, che ci porterà allo sblocco di Road Trip, almeno per voi, per me no, perché non gioco a Fortnite da un sacco di tempo. Ci ho giocato giusto in queste sere e sto pian piano completando tutte le sfide, guardate quanto sono indietro. È arrivato il momento di vedere quali novità ci sono. Ok, la tratta non è esattamente perfetta, ma non è neanche affatto male, quindi possiamo sfruttarla per i nostri scopi. Allora ragazzi, partiamo da una grande cosa che avrete notato già tutti. Le brecce, o squarce come li volete chiamare, si stanno chiudendo lentamente, si stanno chiudendo tutte quante. È rimasto un puntino sopra la zona vichinga, quella al centro è praticamente quasi chiusa e quella sopra il deserto non si vede neanche più. Ora, se la prospettiva non mi inganna è così, ma fatto sta che si sta richiudendo tutto. È come se stessimo tornando lentamente a una situazione di normalità. Intanto lasciate un like per questo tipo di video, so che a molti di voi piace e spero vi faccia piacere che torno a parlare dei misteri di Fortnite. Misteri che in questa season sono venuti un po' a mancare, si sono persi di vista. E credo che il punto, perché non penso che la Epic sia così folle da lasciare andare via tutta la parte di storia di Fortnite, che effettivamente è la cosa che lo sta tenendo in vita, che dà le tematiche, i pass battaglia e tutto quanto. Sarebbe follie a rinunciare a tutto ciò. Credo semplicemente che il motivo del silenzio di Fortnite e delle poche novità a livello di storia sia l'estate. Quindi tutti festeggiano le vacanze estive. E ciò porta a un calo di giocatori anche sui videogiochi. Perché se la gente è al mare non si mette a giocare a Fortnite, almeno si spera. Quindi penso che un po' anche quelli di Epic abbiano tirato i remi in barca, aspettando di tirare le vere bombe con la nuova stagione, o comunque con l'arrivo di settembre, quindi con il finale di questa season. Ma allo stesso tempo la season 5 ha una tematica davvero interessante, e da qualche parte dovrà andare pur a parare. E in questi giorni è successa una cosa davvero interessante, ed è anche il motivo per cui siamo qui a Tomatodown. Quindi fatemi prendere un po' di materiale, vi faccio vedere una cosa che probabilmente saprete già, ma nel dubbio ve la mostro. Ragazzi, testa di pomodoro è ricomparso a Tomatodown. E c'è anche una cesta qui. Come vedete, testa di pomodoro si è tipo ietrificato, flash carbonizzato. Non si capisce bene che cosa sia successo. Il fatto sta che è tipo rimpicciolito, è come se si fosse rinsecchiato. Gli abbiano come tolto l'energia vitale, anche se era una testa finta, e quindi si è rimpicciolito, si è essiccato, e ha perso anche il colore. Però è tornato indietro. Come vi stavo dicendo, le crepe si stanno chiudendo, testa di pomodoro torna indietro. Sembra che la situazione si stia reversando, forse in vista di un ritorno alla normalità, che spero non vada a togliere la zona desertica. Tra l'altro, quanto diamine siamo lontani? Mamma mia. La cosa che mi ha spinto realmente a fare questo video è una cosa molto semplice. Non so in quanti se ne siano accorti, sinceramente sto seguendo poco la community, ma ho visto su Reddit un post che mi ha fatto riflettere. Se voi guardate, testa di pomodoro, oltre ad essere ricomparso, rinsecchito e rimpicciolito, non guarda più verso il ponte, come al solito, ma guarda da questa parte. Quindi se noi andiamo ad aprire la mappa, e guardiamo dove stiamo guardando, tracciando una linea, si arriva a tangere questa zona. Cosa c'è qui? Ragazzi, penso che lo sappiate tutti benissimo. Potrebbe essere un mega caso, ma la testa di pomodoro sta osservando in direzione del bunker. Se fosse questo un indizio gigantesco di quello che sta per succedere, potrebbe essere, vi ripeto, un mega caso, ma allora perché riposizionarlo dove si trovava? In modo diverso, ovviamente, tutto quanto, ma perché riposizionarlo girato verso una direzione specifica che, guarda caso, guarda da quella parte? Un po' come la sfida di una delle ultime settimane dove dovevi seguire la direzione dello sguardo delle teste dell'isola di Pasqua, quindi delle teste di pietra, per scoprire la posizione di una stella segreta. Tra l'altro, missione che non ho ancora fatto, personalmente. Se ci pensate, è l'esatto stesso principio. E noi andremo diretti nella tempesta perché, mannaggia a me, sono arrivato tardi. Io credo che non sia un caso. Testa di Pomodoro è scomparso in uno squarcio spazio-temporale ed è ricomparso dopo intere settimane e ora guarda esattamente in direzione del misterioso bunker che ancora oggi è completamente sigillato. All'interno compare vuoto con la differenza che... Ci sono dei cespulli che ballano? C'erano già questi dettagli? È la prima volta che li noto. Sembrerebbe che la texture là sotto sia cambiata ulteriormente. Che c'è tipo uno spiazzo di terra e attorno il prato con questi cespulli che si muovono. Ragazzi, non so se è un caso che io lo noti solo ora, ma potrebbero aver aggiornato ulteriormente il bunker. Tra l'altro, ragazzi, ho notato solo ora una cosa che, se non mi coprite, grazie, posso farlo vedere, ma là sopra c'è il pullman che è fermo in cielo in attesa che noi andiamo lì a prenderlo. È la prima volta che noto sta roba. Perché proprio ora potrebbe diventare importante il bunker dopo praticamente quasi due stagioni? Perché è un mistero iniziato nella season 4 addirittura. Intanto vediamo questa volta dove dobbiamo atterrare più o meno. Questa volta andare a Tomato Town sarebbe stato conveniente. Andremo a passatempi... un nome alquanto bizzarro che mi fa pensare che in questa villa si consumino incredibili esperienze orali. Comunque, tornando a noi, perché è proprio ora le novità? Perché è proprio ora a questi indizi il ritorno di testa di pomodoro? Al di là del... dell'importanza del bunker, il pomodoro è tornato. Perché è proprio ora? Perché questa settimana arriverà finalmente la skin segreta della season un po' come è stato spaccatuto nella scorsa stagione. Vale a dire Road Trip. Quindi, chi è Road Trip? Non lo so chi è Road Trip. Lo sapremo tra pochi giorni, ma chi potrebbe essere? Allora, Road Trip, ne parlavo l'altro giorno... Oh, P90, top. Ne parlavo l'altro giorno con Tier su TS. Fa pens... È un nome che fa pensare a qualcosa appunto relativa a un viaggiatore. Per esempio, un motociclista. In questa season ci sono molte skin da motociclista e potrebbe avere senso un'altra skin di questo tipo. Non mi piace molto l'idea, però ci potrebbe stare. Road Trip mi fa pensare al classico motociclista sulla Harley che si fa il coast to coast negli Stati Uniti. Quindi attraversando la 66 con la sua bellissima motoretta attraversa tutto e diciamo che un po' quella... quell'ambiente, quell'ideologia mi ricorda anche questa zona nuova della mappa, zona desertica che ricorda certe parti desertiche degli Stati Uniti per l'appunto. Potrebbe essere tutto collegato e quindi Road Trip potrebbe essere un motociclista? Qui c'è una prova a tempo che non ho ancora fatto, facciamola. Vabbè, tutto ciò vi dà un'idea di quanto io sia indietro con le missioni. Comunque, andiamo avanti. Stavo dicendo che questo Road Trip potrebbe essere facilmente un motociclista, ma che relazione potrebbe avere con la testa di pomodoro o con il bunker, per esempio? Il bunker potrebbe essere, come vi dissi all'epoca, una zona che magari resiste alle mutazioni dello spazio-tempo, magari contiene gli oggetti perduti, potrebbe essere una sorta di capsula del tempo, potrebbe essere tante cose e penso che lo scopriremo molto presto. Non ci sono indizi, quindi si può pensare e speculare ben poco in realtà. Mentre questo viaggiatore Road Trip potrebbe essere un motociclista, sì, ma un motociclista che viaggia sulle strade del tempo. Mi sono immaginato una cosa di questo tipo. Quindi immaginate un viaggiatore che appunto viaggia nel tempo e magari in qualche modo sta cercando di ricucire lo squarcio e magari ci ha riportato indietro lui la testa di pomodoro. Potrebbe essere questa volta addirittura una figura buona a differenza di Spaccatutto che era abbastanza strano, voleva lanciare un razzo sul mondo e fare tutto sto casino, quindi... Anche in questo caso sono solamente speculazioni. Non ci è dato ancora saperlo, io vi dico le mie idee, vi dico le mie teorie e aspettiamo magari anche questa volta ci azzeccherò. Ho avuto molta fortuna slash intuizione nelle passate season e abbiamo previsto un sacco di cose. Vediamo se anche questa volta avremo intravisto qualcosa nei piani della Epic. Intanto fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate, chi pensate che sia Road Trip e che cosa potrebbe fare e soprattutto cosa succederà a questo benedetto bunker. È arrivato davvero il momento di vedere che cosa c'è dentro, verrà aperto in questo finale di season e io penso a questo punto di sì perché quell'indizio, lo sguardo di testa di pomodoro non può essere un caso. Io spero vivamente che più avanti in futuro arrivino molte più teorie, molti più leak, cose succolenti di cui parlare perché adesso c'è davvero poco di cui parlare e nel caso se vi farà piacere tornerò anche a fare i miei video. Siamo bellamente morti e guardate tutti i miei alleati in giro che sparano nessuno si preoccupa di restare i caduti. Perfetto, avrei voluto concludere il video con qualche kill con un minimo di combattimento così non è stato perché mi hanno falciato subito. GG, ho beccato un player forte perché l'ho guardato un attimo e ne ha fatti fuori 4 o 5. Quindi forse era meglio se mi facevo i cazzi miei. Comunque ragazzi questo era un video sulle teorie quindi poco importa. Io vi saluto e ci vediamo probabilmente forse giovedì o comunque nei giorni di fine settimana per parlare di quello che sarà uscito e per vedere se avevamo ragione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un saluto da Aaron Blaze. Ciao a tutti!